Ciao a tutti da Bruxelles. Il summit europeo tra i capi di stato e di governo che si è concluso nei giorni scorsi ha visto tutti contro Viktor Orban, il premier ungherese, accusato di aver approvato in Ungheria una legge contro i diritti delle persone LGBT. È da anni ormai che Viktor Orban è la pecora nera dell'Unione Europea, accusato a più riprese di estremismo, di razzismo, ma mai come questa volta gli altri capi di stato sono stati duri nei suoi confronti. Il premier olandese Mark Rutte ha detto chiaramente a Viktor Orban ma perché non uscite dall'Unione Europea? Il premier svedese ha detto che il suo popolo non vuole dare soldi ad un paese che minaccia i diritti di alcuni suoi cittadini. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha detto chiaramente che la legge ungherese è inaccettabile. Insomma, quasi tutti si sono trovati d'accordo nel dire che questa volta Orban ha superato la linea rossa. Orban si è difeso a spada tratta. Vediamo cosa ha detto al suo arrivo al summit europeo. Non è sull'omosexualità, è sui figli e i bambini, è tutto. Ma ancora criticano. Sì, sì, ma è una legge inglese. Insomma, secondo Orban non si tratta di una legge contro i diritti delle persone LGBT ma che tutela i diritti dei bambini, dei minori e dei genitori, della famiglia tradizionale. Ma cos'è che dice esattamente la legge approvata dal Parlamento ungherese? Ufficialmente questa legge ha l'obiettivo di tutelare minori e contrastare ovviamente i gravissimi casi di pedofilia. Tuttavia al suo interno si parla anche di mettere a riparo le persone minori da informazioni che riguardano appunto la comunità LGBT, il mondo omosessuale e tutto quello che concerne ad esempio interventi di cambio di sesso o di differenza fra genere e sesso biologico. Insomma, il legislatore ungherese deve aver pensato che i minori di 18 anni sono troppo giovani per ricevere informazioni di questo tipo. Le associazioni che in Ungheria difendono i diritti della comunità LGBT e anche quelle internazionali tuttavia sostengono che quando un ragazzo o una ragazza scopre di avere tendenze non eterosessuali nel senso più standard del termine non ha per forza più di 18 anni e quindi proibirgli l'accesso a tutta una serie di informazioni che riguarda questa sfera sessuale prima dei 18 anni potrebbe contribuire al sentimento di non accettazione che purtroppo spinge non soltanto a discriminazioni ma molto spesso a dati di suicidio. Un altro effetto che questa legge potrebbe avere è quello di proibire a associazioni e ad organismi anche internazionali di promuovere delle campagne di informazione per la difesa dei diritti di tutte le comunità che esistono in un paese oltre alla circolazione di materiale anche informativo, libri, film che riguardano la comunità LGBT. Insomma, affinché una legge discrimini una determinata comunità non deve per forza dirlo chiaramente, non deve per forza esserci scritto questa comunità è da discriminare oppure questa comunità è fuori legge. Ma può farlo in modo indiretto, come in questo caso parlando di LGBT e pedofilia, ad esempio, nelle stesse righe. Ma adesso cosa succederà? Orban ha detto si tratta di una legge ungherese, sono affari nostri. Ma le cose non stanno proprio così. Glielo ha ricordato il presidente italiano del Consiglio Mario Draghi che gli ha ricordato appunto come l'articolo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea parla molto chiaro per quanto riguarda la difesa dei diritti fondamentali dei cittadini europei. Ve lo voglio leggere per chiarezza. L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra uomini e donne. Tecnicamente, entrando a far parte dell'Unione Europea, tutti i Paesi membri sono obbligati a rispettare questi principi. Il che vuol dire che le leggi approvate nei diversi Paesi membri non possono violare questi principi. Draghi l'ha detto chiaramente ad Orban, che spetta alla Commissione Europea, custode dei trattati dell'Unione Europea, stabilire se un determinato governo viola, oppure no, questi principi. Ursula von der Leyen ha già detto che la Commissione Europea preparerà una lettera per il governo ungherese. Lettera che porterà molto probabilmente all'apertura di una procedura di infrazione. Insomma, questa volta Orban potrebbe veramente trovarsi di fronte a un bivio, in quanto gli altri capi di Stato e di Governo non sembrano assolutamente pronti a trattare. Il rispetto dei diritti fondamentali di tutte le comunità europee, compresa quella LGBT, è una linea rossa che neanche il governo ungherese può oltrepassare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.